Saludatori, grandissima sorpresa, mi trovo qui con Rosalind. Ciao a tutti ragazzi, un bellissimo incontro, non vedevo l'ora perché va tanto e te lo aspetteranno. Esatto. Un saluto a tutti voi, cosa fate di bello per fissati? Ecco qua, voi iscrivetelo, ditecelo, intanto chiedo un saluto a tutti quei fatti, e tu hai tantissimi fatti che si servono. Oltre 30.000 a tutti molto molto carini, che mi sentono molto per due pubbliche, il Bon Tom, perché oggi il Bon Tom deve essere assolutamente seguito ragazzi. Bravissima. E per i vari modi di dire che nella vita diciamo, perché diciamo non c'è prima per i gatti, perché diciamo ti faccio vedere i sorci belli, quindi seguitemi e ne saprete sempre di più. Ecco qua, grazie, buona estate a tutti, ricordiamo i tuoi canali dove ti trovano? Allora, io sono sul canale 10 con la pubblica su Mordoi, modi di dire, Instagram sempre, ogni giorno, Facebook uguale. Come ti trovano? come ti trovano? Allora, Roseline underscore Mirialaki, però se scrivete Roseline già con la Y, perché il nome è Roseline in francese, vi trovate subito, Roseline underscore Mirialaki, oppure su questo Roseline Mirialaki. Perfetto, ecco, vi aspetta, vi aspettiamo per un saluto al nostro amico Niki Giussino. Niki Giussino, che è il nostro grande 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 amico. Ciao Niki. Ciao Niki, ecco qua, direttamente dall'inaugurazione del Federico Fashion Style. E la manina, ecco qui, vedete, a piazza Miralevi. La mia amica Valeria mi ha invitato, che è sempre stato caro, e io non manco mai da lei. Grandissima, e c'è la manina del saluto ma non è che fa bandone con le cabinelli, con il tuo attimo. Ciao a tutti. Ciao.